bene ben ritrovati a questo nuovo video nel quale ormai visto l'avvicinarsi del rilascio della nuova versione a lungo termine di supporto di ubuntu dicevo visto l'avvicinarsi di questo termine in questo video ho deciso di anticipare un po i tempi circa un mesetto siamo il 10 marzo questa versione di ubuntu 14.04 quindi aprile sarà rilasciata se non sbaglio il 17 aprile comunque diciamo più o meno metà aprile quindi ho deciso di anticipare di un mesetto i tempi e fare questo questo video che presenta le novità che ci saranno in questa nuova versione ecco quindi deciso di fare il mio compitino un po in anticipo questa volta anche perché il momento del rilascio della della versione so già per motivi vari che non riuscirò probabilmente ad installarla subito subito e al contrario di tanti altri che un minuto dopo rilascio della versione avranno già fatto il loro video io non riuscirei a quel momento è ad essere diciamo così tempestivo ecco e perché deciso di anticipare i tempi e posso permettermi di anticipare i tempi di circa un mese perché lo sviluppo di questa nuova versione di ubuntu è già aggiunta allo stadio chiamato feature freeze ovvero al blocco del dell'introduzione di nuove feature ovvero di nuove funzionalità e questo significa che da adesso fino al termine di di metà aprile gli sviluppatori di canonical si impegneranno esclusivamente sul consolidamento di quanto raggiunto finora quindi sull'eliminazione dei bug dei problemi su sugli affinamenti ma sempre su funzionalità già come dire accettate già introdotte in precedenza ecco il lo scopo o come dire significato di questi termini feature freeze quindi il blocco di introduzione di nuove funzionalità quindi essendo una versione a lungo termine di supporto questo punto 1404 non ha non introduce funzionalità veramente rivoluzionare ma più che altro consolida e aggiunge sì cose nuove qua e là ma non proprio rivoluzionari ecco comunque ce ne sono di cose nuove da raccontare anche in questo caso allora vediamo un po le novità dunque che come dire in realtà sono già presenti adesso se voi prendete un'immagine giornaliera del di questa versione di ubuntu in sviluppo che tutti i giorni ne viene rilasciata una aggiornata se voi installate su un vostro pc di riserva in una macchina virtuale come il mio caso qua dietro vedete sullo sfondo del video che state guardando ho aperto una macchina virtuale con ubuntu 1404 installata e aggiornata a mi sembra un paio di giorni fa al massimo ecco dicevo se voi installate adesso ubuntu 1404 proprio perché già nello stadio feature freeze queste novità che vado a raccontarvi fra un attimo in realtà le trovate già che poi siano stabili già stabili senza problemi senza errori o meno un altro discorso però tutte le novità previste per questa versione accettate sono già presenti quindi le potete già vedere anche per conto vostro allora iniziamo iniziamo da un una forma migliore di presentarsi da parte del gestore degli aggiornamenti ecco noi siamo abituati da anni ad avere un gestore degli aggiornamenti aggiornamenti di ubuntu ma anche di altre distribuzioni linux è un po come dire un po tanto tecnico ecco che si presenta con una faccia un po più verso il tecnico che non verso l'utente comune come ci consideriamo noi ecco il nuovo gestore degli aggiornamenti è stato diciamo per così dire abbellito o gli è stata data una forma come dire più umana e meno tecnica ecco non essendo sicuro se oggi ci fossero degli aggiornamenti nella mia macchina virtuale ho preferito prendere uno screenshot quindi un'immagine dell'aggiornamento che ho fatto appunto un paio di giorni fa vedete qua adesso apro questo screenshot magari nascondo un attimo la scaletta così posso ingrandire ben benino questa immagine vedete che qui in alto a destra c'è scritto 8 marzo quindi appunto un paio di giorni fa la mia macchina virtuale richiedeva questi aggiornamenti erano abbastanza numerosi questi aggiornamenti anche perché essendo una versione in sviluppo gli aggiornamenti sono molto frequenti e sono praticamente sicuro che se anche adesso avviassi il vero gestore degli aggiornamenti e non vi facessi vedere questo screenshot troverei sicuramente degli aggiornamenti da fare anche oggi solo due giorni di distanza però fa niente lo scopo di questo screenshot non è di andare chissà quanto in profondità nel discutere di questo gestore degli aggiornamenti ma nel mostrarvi la sua faccia decisamente diversa rispetto a quello che troviamo ancora in ubuntu 1204 o successive ecco soprattutto dalla 1204 mi sembra che in versioni successive si è già iniziato questo lavoro di affinamento del dell'interfaccia del gestore degli aggiornamenti ma comunque con 1404 diciamo che raggiunge la sua forma più avanzata ecco vedete che gli aggiornamenti sono presentati in un elenco come sono sempre stati presentati però sono anche come dire categorizzati ecco dove c'è una freccetta qui sulla sinistra perché ci sono dei come dire sottopacchetti che riguardano questa voce però il non tecnico l'utente comune come piace sempre considerare me e voi che seguite questo canale l'utente comune può anche evitare di aprire se non per curiosità di fare clic su questa freccettina sulla sinistra e di vedere dei nomi piuttosto tecnici un po come sono sempre stati tecnici i nomi nel gestore degli aggiornamenti può anche lasciar chiuso questo alberello mini alberello di aggiornamenti e leggere solo le voci principali come vedete qui la prima per esempio browser browser è chiaro a tutti che cos'è il navigatore internet anche lui c'è la sua freccettina sinistra prometti aprendo questa freccettina sinistra potrei vedere dei nomi un po tecnici un po come qua sotto nella connessione di rete quindi diciamo così la categoria dell'aggiornamento riguarda le connessioni di rete in questo caso se apro il dettaglio vedo anche dei nomi un po più tecnici glib vpn eccetera eccetera che riguardano comunque quell'argomento per il browser sarà la stessa cosa per file non c'è la freccettina quindi è un aggiornamento solo per il gestore file manager firefox del browser è la stessa cosa eccetera però vedete che appunto è stato un po riordinato e riorganizzato il gestore degli aggiornamenti quindi chi vuole il dettaglio tecnico dove c'è può aprire questa freccettina con un clic sulla sinistra a chi non interessa basta che veda che viene aggiornato un browser viene aggiornato l'ambito delle connessioni di rete file file browser eccetera eccetera ecco quindi è stato reso appunto un po più come dire umano questa gestione dei degli aggiornamenti dei pacchetti che compongono il nostro sistema operativo ecco questa è una prima novità o diciamo conclusione di novità ecco perché dopo la versione 12.04 mi sembra di aver già intravisto nella 13.04 13.10 una disposizione simile negli aggiornamenti e qui però appunto è stato ulteriormente portato avanti questo affinamento nella versione nuova 14.04 ecco poi nella sua globalità il sistema grafico diciamo la presentazione del desktop grafico cioè questo che vediamo qua dietro nello sfondo del video è stato tutto ottimizzato quindi l'accoppiata compits che è il gestore degli effetti grafici insomma ecco della disposizione grafica delle ombre degli effetti delle finestre che si muovono eccetera eccetera compits e unity 7 che è appunto l'interfaccia con il launcher eccetera eccetera con il pannello superiore eccetera eccetera quindi questa accoppiata è stata ottimizzata e stabilizzata in generale ecco quindi è stata un po' rivista anche questa accoppiata di moduli principali della nostra interfaccia grafica di ubuntu per renderla più solida e questo anche in virtù del fatto che questi due componenti nei piani di canonical di fatto con questa versione ubuntu 14 04 stanno iniziando inizieranno ufficialmente la metà aprile inizieranno il loro ultimo tratto l'ultimo tratto di cammino della loro vita questi due componenti e non dimentichiamoci che essendo una versione a lungo termine di supporto durerà cinque anni il supporto quindi ubuntu 14 04 se ve lo tenete per cinque anni installato sul vostro pc otterrete sempre aggiornamenti di sicurezza eccetera eccetera per cinque anni e poi quindi moriranno queste due componenti moriranno ufficialmente solo nel 2019 quindi 2014 5 anni 2019 e questo perché vi richiamo un attimo anche lo schema dei rilasci delle versioni di ubuntu le quali potete vedere appunto che la 14 04 questa inizierà la sua vita a metà aprile 2014 ecco qua questa barra violetta e proseguirà per cinque anni fino a 2019 credo autunno 2019 scadrà il supporto alla 14 04 fin qui questa versione sarà ufficialmente l'ultima che funzionerà con l'accoppiata compis gestore grafico compis e interfaccia grafica unity 7 questo perché appunto da dalle prossime versioni nelle intenzioni nei piani di canonical dalle prossime versioni quindi dalla 14 10 in avanti questa accoppiata dovrebbe essere sostituita da la nuova unity 8 quella che porterà la vera convergenza tra i vari formati sui quali poter farggiare ubuntu ovvero i telefoni tablet smartphone e pc quindi sarà unity 8 e non più unity 7 e compis verrà eliminato perché prenderà posto il nuovo server grafico mir al posto di x server che quello che viene usato tuttora e quindi cambierà diciamo tutto il quanto gestisce quello che noi riusciamo a vedere qui a video noi interagiamo con questa interfaccia grafica e ciò che fa funzionare questa interfaccia grafica cambierà completamente dietro dietro le quinte e ci sarà appunto la nuova copiata unity 8 più mir e io avrei credo che ho messo da qualche parte nella mia scaletta poi un paio di disegni che mostrano meglio quanto vi ho appena detto quindi ci arriveremo più più sotto nei miei appunti ci arriveremo a vedere meglio rappresentato graficamente quanto appena detto quindi ecco diciamo che la novità non è una novità funzionale quella che vi ho appena raccontato è un'ottimizzazione di dei due componenti già esistenti quindi compiti compiti e uniti 7 ma se vogliamo la vera notizia novità è che appunto questi due componenti inizieranno stanno per iniziare l'ultimo tratto della loro vita in questa versione a lungo termine di supporto ecco e quindi per rendere il tutto molto stabile e adeguato ad una versione lts quindi a lungo supporto uniti 7 praticamente le notizie si trovano in rete è stata riscritta da canonical quindi rispetto a quella che troviamo in ubuntu 12 04 13 12 10 13 04 13 10 uniti 7 è stata praticamente rivista e revisionata completamente come interfaccia di ubuntu e questa rivisitazione ha portato anche alla possibilità di gestire il tema grafico cioè il proprio le decorazioni come sono decorate le finestre i bordi finestre tutto quanto mediante dei fogli di stile css ecco qui non addentriamoci nell'ambito tecnico di cosa siano i fogli di stile css chi lavora in ambito web li conosce sicuramente perché questi fogli servono anche a formattare le pagine web come si presentano dei siti e in sostanza sono appunto questi fogli di stile come dicono il nome lo stile di come formalmente si presenta graficamente ai nostri occhi un oggetto grafico sono appunto delle definizioni particolare con definiti con una sintassi particolare che appunto formattano l'oggetto sul desktop come si presenta la veste grafica sul desktop questi oggetti quindi questi si possono applicare finalmente dei fogli di stile e quindi questo cosa ha implicato come conseguenza che la grafica quindi unity 7 non si appoggia più sulla coppiata diciamo sul modulo metà siti di gnome per disegnare le finestre tutto quanto vediamo sul desktop ma appunto sia si appoggia su questi fogli di stile quindi il tema grafico standard di base di ubuntu 14 04 che quello che vediamo qui appunto si appoggia questi fogli di stile non più su gnome metà siti e voi direte perché fare tutto sto lavoro cos'è il vantaggio invece di lasciare le cose come erano visto che poi unity 7 compis andranno a morire ecco il vantaggio è un affinamento ulteriore della rappresentazione grafica due punti fra gli altri immagino che ci siano anche altri vantaggi però io ho trovato questi due diciamo facilmente comprensibili identificabili per esempio i bordi delle finestre gli angoli questi qui dove si si arrotondano le finestre sono finalmente arrotondati senza irregolarità ovvero sono bordi come dire veramente rotondi e non seghettati ecco questo qui uno dei primo vantaggio grafico che forse non colpisce subito all'occhio ma rende più gradevole più raffinata la rappresentazione grafica del desktop è uno dei vantaggi di usare questi fogli di stile invece del vecchio modulo metà siti di gnome un'altra novità per così dire o vantaggio che portano questi fogli di stile loro maggior leggerezza eccetera eccetera che pesano meno quindi sul sistema è anche ridimensionamento scusate ridimensionamento reale delle finestre e quindi non più solo il bordo che si muove fino al rilascio del mouse cosa voglio dire ecco se io prendo questa finestra e mi posiziono qui per ridimensionarla vedete che tutta la finestra tenete presente che qui come ho già detto in altri video sul mio pc che non è potentissimo sto usando una macchina virtuale quindi non è veloce come fosse un'installazione vera però vedete che tutta la finestra sta seguendo il ridimensionamento in precedenza per difetto non era questa l'impostazione perché come dire non era molto ottimizzato pesava troppo per il sistema e in realtà erano solo i bordi della finestra ad essere ridimensionate fin quando non si rilasciava il mouse quindi seguiva questo bordo questo verticale questo orizzontale davano diciamo l'idea della della sagoma della finestra che avrebbe avuto come dimensioni ma non seguiva tutto il contenuto della finestra l'ingrandimento seguivano solo i due bordini poi si rilasciava il mouse e veniva ridisegnata la finestra ora invece l'ingrandimento è effettivo da subito la finestra è veramente ingrandita disegnata al volo subito ecco questi sono i vantaggi di questa riscrittura e rivisitazione di unity 7 basata appunto sui fogli di stile non più su non metà siti ecco poi altro importante passo avanti per unity sempre per unity 7 è che è stata aggiornata con l'introduzione del supporto per il display hdpi o hdpi quindi i display ad alta definizione che ha fatto la loro comparsa timidamente poi si sono sempre più diffusi adesso sono sempre più frequenti i pc portatili con degli schermi ad alta definizione l'altra definizione vuol dire che hanno una definizione di dpi ovvero dot per inch ovvero punti per pollice per inch più alta cioè il mio pc che sto usando adesso è ancora diciamo così vecchia maniera lo schermo di questo pc non è ad alta definizione ma la definizione ma definiamola normale ecco mentre i nuovi portatili sempre più spesso hanno appunto gli schermi con questa dimensione ma con una risoluzione molto più alta quindi come dire ci sta più roba per la stessa superficie di schermo ecco il ci sta più roba però implica anche che questa roba questi oggetti grafici diventano anche più piccolini ovviamente perché essendo più densi ce ne stanno di più ma in proporzione diventano anche più piccoli visto che la superficie dello schermo è sempre quella più definiti quindi sempre nitidi sempre utilizzabili e leggibili però più densi ed ecco che fino a poco tempo fa o fino alla versione precedente a questa di questa nuova che arriverà di ubuntu non c'era questa questa gestione e quindi usare unity ma anche altre interfacce di altre distribuzioni linux e non solo unity questo problema era presente anche per nome non shell e altre e altri tipi di interfacce quindi usare unity far partire unity su un pc di questo tipo con questo tipo di schermo era praticamente al limite dell'inutilizzabile perché erano troppo troppo ridotte le dimensioni del launcher qui sulla sinistra o anche delle finestre dei titoli dei menu tutto troppo piccolo il pannello qua sopra veramente molto piccolo e difficilmente cliccabile o leggibile ecco quindi quasi inutilizzabile praticamente inutilizzabile in questi display d'alta definizione ecco che se corsi e ripari ripeto non solo canoni calconobuntu ma anche altre distribuzioni linux sono corsi e ripari e hanno inserito un modo per ovviare a questo problema quindi nella gestione del monitor nell'impostazione di sistema è stato aggiunto la possibilità di modificare la scala con la quale viene disegnata l'interfaccia grafica ecco la scala per difetto adesso io apro qui ho già anzi ho già aperto qua sotto l'impostazione di sistema andiamo a vedere sotto l'aspetto credo no scusate sotto il monitor ovviamente ecco qua sotto il monitor quindi sotto la gestione del vostro o i vostri schermi quindi il o i se ne avete di più connessi i vostri schermi avete la possibilità di gestire la scala con la quale viene rappresentato questa interfaccia grafica io senza garanzia che funzioni nella macchina virtuale comunque vedete che per difetto come dico qua nella mia scaletta la scala è 1 il valore 1 quindi neutro la scala è l'originale vedete che nel mio video che non è ad alta definizione è la solita unity si presenta con una scala leggibile ed utilizzabile anche il pannello superiore tutto normale come l'abbiamo sempre visto ci fosse uno schermo ad alta definizione dovrei aumentare la scala per avere gli oggetti un po più visibili un po più utilizzabile quindi si prende questo cursore e vediamo un po se riesco ecco vedete che ho aumentato da 1 a 1 e 38 guardate come è diventato grande il pannello superiore come è diventato grande il launcher vedete è diventato tutto più grande ovviamente sul mio schermo che non ne ha bisogno diventa subito eccessiva la grandezza di questi oggetti grafici ma ripeto chi ha già chi possiede già un portatile un pc con uno schermo comunque ad alta definizione è questa opzione una vera benedizione per gestire la grandezza come preferisce lui della rappresentazione degli oggetti grafici a video ecco adesso io torno alla mia scala neutra a 1 vediamo se ce la faccio ecco torno alla mia scala normale perché appunto il mio schermo è normale e questa è appunto l'aggiunta per poter gestire questi nuovi display sempre più diffusi partire appunto da ubuntu 14 04 in avanti ci sarà questa opzione poi sempre in questo ambito c'è anche la possibilità di diminuire ulteriormente la grandezza del launcher allora se andiamo sotto l'aspetto qua fino alle versioni precedenti di ubuntu non si poteva andare sotto questa dimensione di 48 pixel per le vedete qui 48 48 pixel per le icone qui sul launcher a sinistra vedete la solita grandezza si possono aumentare quindi far diventare più grandi le icone e diminuire adesso a partire da 14 da ubuntu 14 04 si possono veramente rimpicciolire vedete posso andare oltre quanto potevo fare finora nelle altre versioni di ubuntu fino a 16 pixel quindi se ho molte molte icone anche se sono un po piccoline sono ancora utilizzabili con il mouse vedete anche nel mio schermo qui normale non ad alta definizione sono ancora utilizzabilissime le icone ce ne stanno molte di più senza dover sfruttare l'effetto fisarmonica che usa il launcher quando ha troppe icone da rappresentare vedete io mi metto torno allo standard e vedete che qui inizia ad accennare l'effetto fisarmonico vedete perché ci stanno appena appena le icone che ho in questo momento sul launcher ecco per evitare il più possibile questo effetto se ho tante icone fisse sul launcher posso ulteriormente rimpicciolirlo e prima non si poteva rimpicciolire così tanto ah andiamo avanti ok c'è anche la possibilità adesso qua torniamo così c'è anche la possibilità di di provare per chi come dire coraggioso e sa cosa sta facendo di provare in anteprima l'accoppiata di cui ho già parlato in precedenza unity 8 la nuova unity 8 che è poi quella che è già presente sugli smartphone con ubuntu e il server grafico mir il nuovo server grafico mir quindi questa accoppiata è presente nei repository di ubuntu 1404 come anteprima e qui attenzione ve lo dico ma assolutamente vi sconsiglio di farlo se non sapete se non siete uno sviluppatore o se non siete assolutamente interessati o se non sapete cosa state facendo lasciate perdere è un'anteprima che non funziona per niente bene ecco io proprio per pura curiosità l'ho provato su un altro pc di riserva che ho ho provato installarli ma incasinano diciamolo pure chiaramente incasinano la l'installazione normale di ubuntu 1404 in più non danno un granché da provare ecco e se non avete uno schermo tattile che reagisce al touch come quelli degli smartphone oltretutto è peggio ancora perché mouse e touchpad del vostro portatile non funzionano o non funzionano sempre su questa nuova interfaccia per il momento unity 8 sul vostro pc quindi ve lo dico per dovere di cronaca ma assolutamente vi sconsiglio di provarlo sulla vostra installazione principale del vostro pc non fatelo è questo mio consiglio spassionato non fatelo per il momento unity 8 e server grafico mir per il momento sono già ufficialmente presenti sulle immagini del sistema per gli smartphone e per i tablet ma per i pc per il momento lasciamo perdere nei piani di canonical arriveranno sul serio questi nuovi elementi a partire dalla prossima ubuntu intermedia fra una lts e l'altra quindi la 14 10 quella di ottobre per il momento ve lo dico ma lasciamo perdere non è proprio ancora il caso di provarlo ecco ve ho promesso prima quando vi ho parlato di unity 7 compits che verranno sostituiti appunto che moriranno in favore di unity 8 il server grafico mir e ho promesso un paio di schemi per mostrarvi appunto quello che vi ho detto a voce il primo schema è questo che vi mostra appunto come adesso la situazione o meglio come sarà ufficialmente da metà aprile al momento del rilascio di ubuntu 14 04 il mondo tecnico di ubuntu ci sono anche dei nomi tecnici qui lasciamo stare comunque questo è uno schema che diciamo così schematizza usate il gioco di parole la piattaforma tecnica cosa sta dietro le quinte alla nostra interfaccia unity quando noi la usiamo qui sul nostro pc o e o sul nostro telefono o tablet ecco quindi c'è tutto il kernel linux ovviamente ci sono tutti i componenti tecnici e quello che mi interessa mostrarvi più che altro è la parte desktop rispettivamente telefono smartphone e tablet al momento del rilascio di ubuntu 14 04 saremo in questa situazione praticamente sul desktop ovvero sul pc come vedete qui nella mia macchina virtuale abbiamo sempre il server grafico xorg che è quello che c'è da tantissimi anni compits per gli effetti grafici rappresentazione grafiche unity 7 come interfaccia e per il telefono e o per i tablet abbiamo già il nuovo server grafico mir che andrà a sostituire che va a sostituire xorg e unity 8 che va a sostituire diciamo unity 7 compits ecco se vogliamo dire così rispettivamente a partire da andiamo riprendere la mia scaletta a partire da 14.14 10 quindi quella di ottobre di quest'anno la nuova versione vedete che lo stesso schema è stato ripreso ma è stato come dire grigiato sbiancato cancellato la parte desktop perché il desktop si uniformerà anche lui alla parte tecnica che già attiva ora per il smartphone e tablet più desktop vedete quindi anche il desktop a partire da ubuntu 14 10 avrà il nuovo server grafico mir e uniti 8 così la convergenza la famosa convergenza che canonical predica praticamente da circa tre anni o poco più la famosa convergenza sarà completata il cerchio sarà chiuso a partire da ottobre 2014 quindi qualsiasi come dire apparecchio fisico hardware che useremo smartphone tablet o desktop il nostro portatile il pc fisico da tavolo useranno tutti la stessa tecnologia per presentarci l'interfaccia con la quale noi interagiamo server grafico mir e unity 8 non ci sarà più differenza quindi ecco perché parlo di convergenza di chiusura del cerchio quindi tutte le applicazioni programmi che useremo differentemente sul telefono sul tablet o sul desktop le applicazioni saranno disegnate sono stanno già sono già disegnate tuttora in modo che si adattino al tipo di apparecchio sul quale stanno girando quindi sarà tutto unificato ecco questo era un po per chiarire il futuro prossimo perché è abbastanza vicino sembra ma ormai siamo già metà marzo ora che ottobre non è sembra distante ma non è così distante quindi la convergenza nei piani di Canonical avverrà effettivamente a questa versione 14.10 avrà tempo di maturare vedete un po i piani ci sta un po di ragionamento dietro a questa pianificazione quindi il lungo termine di supporto 14.04 si sta tranquilli tranquilli sul collaudato compits più Unity 7 mentre si inizia a far maturare la nuova accoppiata Unity 8 e Serve Grafico Mir a partire da Ubuntu 14.10 poi avrà tempo più di un anno praticamente quindi la 15.04 e la 15.10 prima di arrivare alla nuova LTS che si chiamerà 16.04 che sarà appunto la nuova LTS con Unity 8 e Serve Grafico Mir già maturi da le tre versioni precedenti che sono passate intermedie fra una LTS e l'altra ecco un po in questo in questo contesto l'altra novità che porterà il rilascio di 14.04 LTS sarà anche la prima versione che ufficialmente verrà installata sui dispositivi mobili in commercio probabilmente ne avrete già sentito parlare c'è un accordo con due produttori di smartphone e tablet penso anche tablet comunque soprattutto smartphone un europeo spagnolo che è BQ o BQ non so come si pronunci forse in spagnolo o semplicemente BQ come in italiano e uno cinese che è Meizu ecco questi due produttori sono i primi ad essersi accordati con Canonical o meglio Canonical si è accordata con questi due produttori come prima tappa per creare, fabbricare fisicamente degli smartphone con già Ubuntu preinstallato quindi noi potremmo comprare da uno o da entrambi di questi produttori non so se Meizu credo stia arrivando in Europa in questo periodo e non solo in Cina appunto quindi da uno o da entrambi di questi produttori potremmo comprare degli smartphone e ricevere il nostro apparecchio con già Ubuntu preinstallato come adesso andiamo a comprare un telefono qualsiasi con Android preinstallato ecco quindi la 14.04 sarà la prima appunto ad entrare nel mondo mobile ufficialmente concretamente poi andiamo ancora a vedere un paio di particolarità d'utilizzo dell'interfaccia di dettagli di novità che riguardano proprio l'uso dell'interfaccia uno è l'estensione del menu HUD cioè quello che adesso anche nella versione 12.04 si attiva col tasto ALT che è poi quello che permette di visualizzare il menu ecco questo praticamente questo menu contestuale dell'applicazione che ha il fuoco che è in sovrimpressione in quel momento quindi se io ho sovrimpressione quindi in primo piano questa finestra se premo il tasto ALT mi si aprirà il menu contestuale nel quale posso digitare e cercare i comandi per quell'applicativo particolare ma questo lo sapete già se usate già Ubuntu 12.04 quindi quel menu particolare lì adesso è stato esteso anche alla ricerca delle finestre aperte su un desktop quando usate la scorciatoia tasto super che poi chiamato anche tasto Windows ma io preferisco chiamarlo super perché è neutro e non richiama nessun prodotto specifico tasto super più W vediamo se ci riesco nella macchina virtuale ecco praticamente sicuramente sapete che la scorciatoia tasto super più W permette di fare lo spread delle finestre praticamente l'espansione delle finestre presenti su un desktop e mostrarvele tutte quelle che sono aperte ecco qualora fossero veramente tante c'è la possibilità adesso semplicemente di iniziare a digitare il nome di un titolo della finestra per esempio vediamo un po' qui in basso a destra ho la finestra home del file manager io posso iniziare a digitare H O ecco vedete abbastanza due lettere lui mi ha già scremato tutte le finestre e mi dice guarda che con H O hai questa finestra così posso fare clic e mettere in primo piano direttamente questa se faccio ancora una volta accidenti aspettate che non è facile una macchina virtuale fargli prendere tra fuochi di finestra e non finestra e fargli prendere ecco queste scorciatoie un'altra possibilità è non so ho aperto qui nel browser nella macchina virtuale la scaletta che sto seguendo in attesa di Ubuntu 14.04 per esempio posso iniziare a digitare che ne so U vediamo un po' se funziona ops scusate ma è qui macchina virtuale vediamo se ci riesco U ecco ho iniziato a digitare Ubuntu vedete che il titolo della finestra è in attesa di Ubuntu 14.04 ma lui cerca anche in mezzo ovviamente io ho iniziato a digitare U UB per Ubuntu e mi ha già scremato questa finestra colore ne aveste aperte tantissime di finestre su un desktop può magari far comodo non lo so fare così e digitare semplicemente quella tal finestra che avete bisogno fate enter e vi ritrovate in primo piano quella tal finestra ecco questo è il succo di questa nuova opzione altre opzioni nelle impostazioni di sistema c'è per esempio sì ne ho due o tre da mostrarvi ce n'è una che è l'integrazione a scelta quindi potete scegliere se integrare i menu delle singole finestre nel titolo delle finestre stesse e non più avere i menu semplicemente in cima nel pannello ecco vedete per esempio qua la finestra del file manager sì io ce l'ho qui in basso per andare a prendere con il mouse il menu devo viaggiare con il puntatore del mouse fino in cima nel pannello perché ci sono i menu globali un po' come sui Mac ecco Macintosh, Apple ci sono sempre stati questi menu globali anche in Unity sono stati introdotti questi menu globali da qualche versione però appunto un po' questo discorso legato anche agli schermi ad alta definizione quindi con più superficie virtuale quindi magari per la stessa superficie fisica dello schermo gli oggetti hanno più posto perché c'è una risoluzione più alta graficamente ecco che le finestre tendono anche a essere un po' tanto lontane dal pannello superiore quindi dovrebbe fare chilometri con il mouse per andare a prendere i menu ecco che nel pannello di controllo sotto aspetto e comportamento è stata aggiunta questa opzione dei menu applicativi che se non sbaglio per difetto è comunque attivo il menu globale quindi quando voi installate Ubuntu senza far niente vi ritrovate come sempre il menu legato al pannello superiore però potete decidere di metterlo integrare i menu non più sopra vedete che adesso è nero il pannello qui sulla sinistra ma integrarli nel titolo delle finestre quindi non si perde spazio grafico per il menu perché è stato integrato direttamente nel titolo della finestra vedete che già qua il menu è arrivato qui nelle impostazioni e nel nostro file manager non è più qua in cima vedete sempre nero il pannello ma il menu appare integrato nel titolo della finestra vedete non dovete più fare chilometri con il mouse perché così ogni finestra la potete trascinare tranquillamente ma il menu è lì a disposizione direttamente nell'area nella superficie della finestra poi un'altra cosa che è stata aggiunta è il volume dell'audio quindi se noi andiamo nella categoria audio ecco il volume dell'audio adesso può essere aumentato oltre il 100% cioè finora non c'era un modo diretto così veloce di aumentare il volume dell'audio al di sopra del 100% non c'era questa possibilità adesso con una semplice opzione vedete è ancora scritta in inglese è ancora in sviluppo non è ancora totalmente tradotta questo Ubuntu 14.04 comunque c'è questa opzione che permette di aumentare oltre il 100% il volume dell'audio quindi senza questa opzione attiva è semplicemente un cursore che va da 0 a 100 per il menu se attivate questa opzione vedete che si può andare fino al 100% e poi varcare al confine andare oltre il 100% quando attivate l'opzione vedete che vi avvisa attenzione che il suono può essere distorto dalle vostre casse se non sono tanto adatte a gestire un volume così alto questo può essere utile quando ci sono dei video audio musica troppo basse registrati troppo basse può aiutare a sentire meglio passare la soglia del 100% ecco questa è un'altra bella opzione che può far comodo poi nella gestione degli utenti è stata aggiunta l'opzione per mettere o togliere il proprio nome sul pannello ecco vedete che qui quindi qui sotto nel pannello della macchina virtuale non c'è attualmente il mio nome come c'è sulla mia macchina vera qua sopra vedete qui c'è il mio nome qui non c'è però è stata messa la possibilità nella gestione utente quindi qua account utente di eccomi qua di con questa opzione anche questa ancora in inglese però c'è scritto praticamente mostra il mio nome sulla barra in cima sul pannello sopra quindi se attivo quest'opzione vedete che appare qua il mio nome se io disattivo riscompare il mio nome quindi ho la scelta adesso se mostrare o meno il mio nome sul pannello superiore e in più non so se questo francamente non so se era già presente in versioni precedenti di Ubuntu se è una novità di questa versione c'è anche il pulsante history per gli accessi che ho fatto al sistema con la mia user quindi se premo questo pulsante mi uscirà una finestrella che mi mostra quante volte sono entrato e uscito dal mio sistema ecco questa settimana niente l'ultima settimana vedete che sono acceduto varie volte l'8 marzo quando ho fatto l'aggiornamento del sistema la macchina virtuale sono entrato uscito quindi vedete per esempio le 11.55 ho chiuso la sessione ho terminato le 11.54 l'avevo fatta partire quindi un minuto dopo poi sono uscito eccetera eccetera quindi avete la possibilità di avere un po' la storia nel tempo la cronologia del diciamo di una settimana precedente della settimana corrente ecco vedete non è non potete non credo che si possa andare più indietro nel tempo perché poi diventa grigia la freccetta qua comunque vedete che c'è la possibilità di avere un resoconto di quante volte siete usciti entrati nel vostro sistema ecco questo probabilmente è più utile per chi ha più user su un pc quindi ha più persone che accedono con lo stesso pc magari l'amministratore che so in una famiglia magari i genitori vogliono vedere il figlio il figlio con la loro user quante volte sono acceduti e a che ora sono acceduti al sistema ecco per una persona singola diciamo che usa un pc personalmente non ha una grande utilità a meno che non sia curioso di vedere quante volte è entrato e uscito lui stesso dal proprio sistema o magari per una famiglia può essere utile per avere una specie di controllo ecco poi vediamo un po' ce n'è di roba anche se ho detto che poi non ci sono novità eclatanti ma in realtà una cosina qui una cosina là ma ce n'è di roba questa nuova versione poi vediamo un po' per coerenza ah ecco questi qui sono in menu diciamo che lo sviluppo di GNOME in quanto ambiente grafico interfaccia grafica tende ultimamente ad eliminare i menu estesi questi questi menu che vedete qui e sostituirli con una rotellina ingranaggio tipo questa tipo questa qui e sostituirla in genere la posiziona qui se si schiaccia quella rotellina quando c'è appaiano praticamente delle opzioni di menu raggruppate sotto quella rotellina ecco non è tanto la strada che vuole percorrere Canonical con Unity ma appunto Canonical con Unity diciamo intende proseguire almeno per il momento la sua intenzione è quella di conservare diciamo l'abitudine di questi menu estesi cioè nel senso che i menu classici quindi per categorie cioè file con le sue opzioni edit con le sue opzioni eccetera eccetera e non con un singolo menu con dentro tutte le opzioni di menu raggruppate in altro modo ecco quindi per evitare come dire una incoerenza nella presentazione dell'interfaccia grafica Canonical ha rimodificato per così dire le applicazioni native di Gnome come Nautilus il file manager ha tolto quella possibilità scusate l'opzione dei menu ufficiali di Gnome con l'ingranaggio qui e ha rimesso corretto diciamo le cose rimettendole in modo coerente corretto dell'interfaccia di Unity rimettendo questi menu ecco il blocco dello schermo è stato velocizzato quindi finora in Ubuntu per bloccare lo schermo c'erano due possibilità una è quella di scegliere l'opzione blocca dal menu qua dall'ingranaggio qua in alto a destra scusate si sceglie blocca e lo schermo si scurisce si blocca e poi si richiede la password per riattivare lo schermo si blocca la sessione oppure con la scorciatoia l'altra possibilità è la scorciatoia super tasto super o Windows come ho già detto super no scusate ho sbagliato il vecchio scorciatoio è control più alt più L quindi L che sta per lock credo per blocco della sessione e finora era così adesso è stato diciamo così un attimino ottimizzato velocizzato sostituendo questa vecchia scorciatoia dei tasti con quella più semplice super L quindi due tasti invece di tre super L e voi bloccate la sessione resta valida naturalmente l'opzione del menu blocca prendendola qua in alto però è più lungo andare col mouse in qui e scegliere blocca e adesso è stata creata la nuova scorciatoia super L a posto di control alt L che è più complicata ecco quindi così è più questo diciamo che è veramente una cosa minima però è da sapere ecco non so se il control alt L funziona ancora parallelamente a questa però decisamente due tasti più veloce che tre super L e si blocca la sessione poi ecco un paio di informazioni ecco di cui una non è proprio una novità l'ultima quindi questa è la penultima non ve la posso come dire mostrare come vi ho mostrato le altre perché è una cosa che sta dietro le quinte tecnica oltretutto io non ho non ho mai avuto finora dischi a stato solido è stata attivata l'opzione trim per i dischi a stato solido per ottimizzarne l'uso ed evitare inutili cicli di lettura scrittura ecco questa è veramente una cosa tecnica che probabilmente mi hanno già sentito parlare coloro che hanno già i pc con dei dischi a stato solido e non meccanici come i soliti hard disk praticamente questi dischi a stato solido sono un po' come delle penne OSV se vogliamo sono delle memorie non hanno più un meccanismo come i dischi meccanici solidi e hanno anche una durata di vita determinata ovvero si sfruttano troppo in lettura scrittura durano meno questi dischi a stato solido sono velocissimi rispetto ai dischi meccanici quindi danno un grande vantaggio velocizzano il pc velocizzano le scritture nella swap tutto quello che volete voi però sono come dire un po' più delicati da questo punto di vista quindi se si legge e scrive troppo proporzionalmente durano meno e allora per ottimizzare questi cicli di lettura e scrittura quindi per renderli diciamo proprio usare come dire leggere e scrivere solo quando serve poche parole è stata arrivata questa opzione nel kernel credo sia nel kernel che permette appunto di ottimizzare questo aspetto ecco questa è l'unica cosa se vogliamo che non posso mostrarvi a livello pratico prendetela com'è notizia tecnica si chiama Trim appunto questa funzionalità che permette di ottimizzare l'uso l'uso di questi dischi a stato solido e quindi di preservarli di prolungarne la vita ecco rispetto a prima chi ha a che fare con questi dischi sicuramente sa di cosa sto parlando quindi comunque è una notizia così che non posso mostrarvi ma è importante naturalmente perché i dischi sono importanti sapete che se si rompe il disco del nostro pc sono guai la maggior ragione questi dischi è stato solido hanno anche loro dei problemi di durata se vengono usati non in modo ottimale ecco quindi questa funzionalità permette di appunto ottimizzarne l'utilizzo l'ultimo punto non è una vera e propria novità ma comunque è una notizia che è apparsa di recente e quindi ve la indico qui anche se non è una novità di interfaccio di utilizzo perché sta anche questa dietro le quinte la 1404 sarà l'ultima sicuramente l'ultima LTS comunque l'ultima versione a lungo termine di supporto che utilizza la gestione della partenza del sistema basata su upstart questo perché perché in futuro anche Canonical dopo la decisione di Debian che è la distribuzione Linux base madre di Ubuntu e di tante altre distribuzioni quindi Debian se decide lei qualcosa inevitabilmente le altre distribuzioni che derivano da lei devono volenti o non volenti adattarsi e quindi in futuro anche Canonical dopo la decisione di Debian passerà a SystemD ecco anche qui sono cose molto tecniche che per come dico sempre io per utenti comuni come noi vogliono dire tutto e niente comunque in due parole upstart e SystemD sono quei come dire quelle parti software del kernel Linux che intervengono proprio al momento che noi accendiamo il PC che fanno partire tutto quanto è necessario poi a darci il sistema funzionante ecco ci sono i vari servizi che possono partire in parallelo o in sequenza uno dietro l'altro eccetera eccetera upstart e SystemD sono questi sistemi questi moduli software che gestiscono tutto questo appunto dal momento che noi schiacciamo il pulsante fisico che da corrente ai circuiti del nostro PC lo fa partire dalle in avanti dopo il lavoro che fa il BIOS o BIOS che vogliamo interviene appunto upstart rispettivamente a SystemD a far partire tutte le parti di sistema che servono poi a rendere funzionante il nostro PC ecco quindi la 1404 sarà l'ultima sicuramente l'ultima LTS ad usare upstart al posto di SystemD non so se già dalla 1410 ci sarà già lì SystemD e non già più upstart questo non lo so perché è relativamente vicina alla 1410 però magari già dalla 1504 sicuramente SystemD farà la sua apparizione e sicuramente la prossima LTS 1604 avrà SystemD e non più upstart che viene abbandonato ecco in questo ho concluso con tutte le novità e notizie che possono interessare tutti coloro che sicuramente installeranno o si avvicineranno a questa nuova versione di Ubuntu come detto sono riuscito ho deciso di fare questo video circa un mese in anticipo del rilascio perché comunque le novità sono queste non ce ne saranno altre anche aspettare non serviva nulla spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e vi sia magari anche utile con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao